ciao a tutti ragazzi buonasera ben ritrovati benvenuti per un'altra sessione a odissea dei signori dei draghi un paio di robine che volevo dire che tanto così per info mi sono preso questo qua perché me lo stanno facendo giocare a al tavolo streak 7 non lo so come viene fuori avremo abbiamo deciso di abbracciare avete presente quando fate le cose che avete il sospetto che siano leggermente cringe e la soluzione è la nostra soluzione è stata non leggermente abbracciamolo al 200 per cento andiamo full cringe mode quindi una delle giocatrici si è fatta sailor mars come giocatore come personaggio proprio quindi e sono bellissime alla fine i personaggi sono veramente fuori di testa e vedremo cosa ne viene fuori uno uno si è fatto il bardo orco emo mi sembra che abbia senso che suona la corna musa triste mi faccio del male per sentirmi vivo esatto sì 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 no ha infatti il suo concept di pg è che prende tutti gli incantesimi che debaffano i nemici ma non quelli che baffano gli alleati perché dice e io no suono e faccio deprimere la gente quando suono no quindi e quindi castano peggio funzionano meno bene e quindi ho detto va bene è approvato questa cosa qua quindi abbiamo fatto un set di pg in pieni in pieni turbamenti adolescenziali vedremo c'è anche la karen allora non puoi parcheggiare qui però quello là è un po più avanti con l'età la karen dove siamo rimasti invece infatti in realtà uno degli altri giochi che volevano che giocassimo prima o poi al tavolo è quello di hoax non mi ricordo la cosa silver hoax non silver hoax è il cartone animato il il no il no il gioco di ruolo per simulare di essere dei pensionati alla casa di riposo aspetta si è green oak green oak green oak bellissimo assolutamente sì assolutamente sì mi aspetto di quelli che vadano lì a rompere i coglioni al ai posti sull'autobus scambiarsi le pillole queste cose qua cioè ma d'altra parte ragazzi ce n'è un altro che non so se lo conoscete passion della passiones quello sulle telenovella quello è sulle telenovella spagnole cioè lì sopra allora ovviamente ragazzi sono delle dei giochi che secondo me non hanno la potenzialità dietro di reggere delle campagne lunghe ma per fare l'avventura one shot cazzona secondo me hanno alto potenziali l'evoluzione di tun sì 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 io passione della passione ci giocherei guarda vabbè manca green oak c'è giocare il vecchietto scassaballe io quel pallone ve lo buco così e infatti secondo me ragazzi ha del potenziale detto questo old person c'è un cantiere oh no perdi perdi 10 10 turn a guardare ok allora ragazzi invece si tun qua ce lo dicono la chat ho giocato un sacco di volte sì io avevo anche quell'altro invece che era tipo teenage non era teenage muta tanto vabbè aspetta ci sarebbe in realtà mostro of the week che è una bomba e ce ne sono di quelli di cuore di mostro ecco cuore di mostro quello 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 mi fa saltare un po alla carotide mi prende male cuore di mostro perché è cuore di mostro è proprio giocare le brazze è proprio a proposito di giochi una volta indie però comunque cringe io con i ragazzi qua giocavamo due molto belli il primo era ammo una simulazione di un anime giapponese con gli esoscheletri contro i demoni e i mostri bellissimo e il secondo era kenshiro il gioco di kenshiro dove il tuo scopo era menare e far esplodere o fare a pezzi i punk io ricorderò sempre ryuno namida che è il personaggio di marcello lacrima del drago uno shura fortissimo tipo dall'isola dei demoni ma con le tecniche cosa avevi occhuto come aura o nanto nanto una squadra nanto con le scuole che c'è con le tecniche del nanto shiken cioè va bene dai veniamo un po noi ragazzi dove siamo rimasti l'ultima volta l'ultima volta siamo rimasti che avete continuato l'esplorazione del tempio è muscoso ma tutte le volte ormai lo dico muschioso perché è un bello bello maschio anche il tempio maschioso e avete da un lato scoperto che c'era una sorta di di atriba politica in corso con le altre di adriadi che non erano d'accordo sul comportamento e di demetria sul comportamento col comportamento di demetri e quindi non si sono opposti alle vostre azioni avete beccato le madri e quindi le due menadi e avete fatto scena del tempio dei dei tempio jedi con i piccoli capridi avete trovato una stanza da letto in cui c'erano dei giovinastri che dormivano della grossa ultra drogati e avete trovato le cucine importante le cucine in cui avete scoperto che sorpresa sorpresa venivano cucinate persone oltre a questo però la cosa è diventata anche peggio quando una volta arrivati alla stanza di demetria avete scoperto che non solo venivano cucinate ma faceva parte di un rituale che sostanzialmente consisteva nel fare innamorare i giovani e poi dare alle ragazze da mangiare il lamato o gli amati e questo poi le trasformava in menadi oltre a questo estremamente crudele e malvagio esatto c'è stato il momento in cui stavros è entrato in contatto con un un oggetto proveniente dalla sua famiglia e ha ricevuto un indizio di dove si potrebbe trovare il successivo cioè all'isola delle amazzoni all'isola delle amazzoni quindi incazzati come pochi avete deciso di affrontare una sessione diplomatica con demetria del tipo ma lei che vi invitava a mangiare e lei che voi l'avete invitata a gustare i vostri pugni nei suoi denti quindi to deglutisci questo poi il combattimento è andato in realtà demetria avete o chi per essa l'avete schiacciata diciamo impunemente il gigan non altrettanto cioè ci ha dato filo da torcere esatto qualcosina ha fatto perché ha cercato di schiacciare vesciaris portandolo comunque a zero perché lasciandolo inconscio inconscio perché era comunque quello che ha tirato il colpo fatale a demetria basta quindi ci siamo lasciati in questa fase qua quindi il combattimento è appena si è appena concluso c'erano le ragazze che stavano fuggendo c'è vesciaris a terra e c'è un corno in mezzo al tavolo per quanto mi riguarda a voi appoggio io appoggio la lancia al muro mi avvicino nella direzione del corpo di demetria e estraggo il gladio dal dal fodero ho fatto un giuramento e quel giuramento verrà compiuto attegno solo un momento del perion voglio prima confermare che poi primo confermare che quella fosse demetria vado a prendere il satiro lui l'ha vista potrebbe dovrebbe riuscire a riconoscerlo una buona idea il satiro lo trovate che in realtà l'oreus che era dietro l'angolo che vi seguiva ma vesciaris è ancora giù o sveglia adesso? è giù tecnicamente quindi nessuno l'ha curato la prima cosa mi assicuro che vesciaris è vera giusto vesciaris fammi un tiro salvezza sulla morte innanzitutto io presumo che stavros in realtà sia quello che ci si butti sopra ma vado vai un tiro salvezza sulla morte e se vai nella scheda se vai sulla scheda c'è proprio in schermata principale sì giusto sì tira sul clicca sul dadone ah è un fallimento vedete che ancora sta sanguinando sta continuando a sanguinare ti avvicino esatto ok 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 bene quindi ritti aspetta che te le ok sei ancora pesantemente ferito però sputando un po di sangue tossendo un po di sangue ti risvegli e sei a terra immagini tutti i serpenti che sputano sangue col temperamento oh mio dio puttana i serpenti ti annaspano in un secondo ok sì sì gliel'ho ricordato lupo che non conta la destrezza quando si è inconsci una volta assicuratemi che Vescharis respira invito Loreus ad avvicinarsi Loreus è molto turbato quando vede Vescharis e le condizioni in cui era fa un vede comunque Andros che fa per fortuna sei intonso illeso ho avuto un soffio al cuore ditemi che cosa volevate sapere tu hai visto Demetra giusto? si mi conferro i capelli del cadavere e alzo la faccia nella sua direzione sì 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 è lei è lei è Demetra che cosa orribile spero per te ci sia un piatto d'argento dimmi che ci sono piatti d'argento sì beh se non altro di sicuro quello che regge il corno è un piatto d'argento allora semplicemente mentre tengo la testa con la sinistra col gladio inizio ad abbassarlo violentemente fino a decapitarla ok siamo siamo dentro io in realtà siccome c'è ancora il mio falchetto che è in aria sì lo posso mandare fuori a verificare se ci sono nemici se c'è qualcun altro oltre nella caverna in qualche modo fare in qualche modo la sentinella insomma se ci dovesse essere qualche altra cosa allora sì ma gli devi dare aspetta che me lo devo ricordare perché gli devi dare un ordine e tra l'altro non è il tuo è uno spell per cui devo ricordarmelo se il summon beast ha un range massimo entro cui può arrivare no non c'è il range non c'è lo vediamo già la stravolta quando ok però gli devi dare un ordine perché lui poi ti dico semplicemente di andare nella caverna grande da cui siamo passati e venire dentro nel caso in cui trova se c'è pericolo se c'è pericolo se c'è pericolo ok allora lui se ne va non lo mettiamo a lavorare sta là e non fa niente almeno perfetto vedete che parte ovviamente farà il giro lungo perché no in realtà sì 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 perché non è stata aperta questa 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 porta qua però fa il giro dalla cucina il giro dalle cucine non è un problema non è un problema ok cosa volete fare mi è vicino verso il corno direi vabbè io finisco la di ciopparle la testa dopodiché prendo un piatto d'argento l'appoggio sopra come ho giurato in nome di mio padre e degli dèi ecco il mio sacrificio dopodiché appoggio la testa sopra il piatto allora io ti ricordo il Pelion perquisisci i suoi abiti vedi se ha da qualcosa con sé qualche messaggio noti che sono noti che non ti sto ascoltando perché sono molto assorto in nella mia azione e molto probabilmente in una preghiera noti proprio che mentre ho la testa appoggiata sul piatto ho gli occhi verso l'alto e sto mormorando qualcosa vabbè visto che lui non mi pensa proprio a questo punto mi avvicino io fai una una cosa allora Giuseppe è che io sono meno io come personaggio sono meno portato a frugare e robe del genere lascio fare a voi che siete più abili io pensavo che ci potrebbe essere tipo qualche lettera qualche messaggio qualche riferimento voi siete quelli intelligenti allora no tuttavia la razza umana era sopravvissuta dicevo no c'è una aspettate che la minimizzo questo così poi se mi serve lo recupero vicino a lei c'era che aveva appoggiato un arco corto quello che aveva detto che voleva donare dare in regalo a dare in regalo a una delle sue future figlie o future madri non è ben chiaro e sembra di ottima fattura io potrei utilizzarlo perché sono comunque competente con gli archi ok è un arco è un arco corto è un arco corto il monaco può usare l'arco corto credo di sì perché è una simple weapon simple melee weapon no perché pensavo al vabbè alla destrezza come sta messo stavros la destrezza vabbè però giustamente se per esempio voi avete bisogno più voi qualcosa rigid io non sono capace di usarlo cioè è proprio so scarso tanto infatti a me un arco corto potrebbe tornare comodo perché tanto io da distanza non ho grossi problemi beh no non sarà il mondo ah no preoccupatevi sto benissimo fin tanto che serpenti si muovono sto respirando mi avvicino la testa di Demetria mentre mi tengo praticamente il costato e osservo beh lo metto nel party sheet eh l'arco l'arco e Sharis sei pronto a prendere il corno? ce la fai a portare ancora altri oggetti? è importante non prenderlo in pieno petto il corno poi poi il resto potrei farcela e quanti archi metto dentro? infatti sono due no no è che dovevo trascinare anche il corno ok scusate che voglio controllare una roba che non abbiano sbagliato la traduzione di una roba sugli oggetti mi pare sia un po' giusto però non si sa mai in questo in questo senso ragazzi io mi spiace dirlo ma rispetto all'inglese lo ripeto l'italiano è una lingua più povera di vocabolario è vero ha circa 180.000 vocaboli in meno ci sono più termini che vogliono dire la stessa cosa in italiano ma sono delle cose diverse in inglese allora dove sono gli oggetti qua intanto ditemi voi che cosa volete fare e poi arrivo talperion stava pregando con la testa stavros è andato a vedere a pregare il corpo io ero andato a prendere il corno e Veshares che sputtava sangue in mezzo Veshares si stava vedendo se poteva respirare ok 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 comunque ma adesso il corno solo quando vede che Veshares è vivo si si tira su cioè immagino o a meno che non vuoi restare lì a a fissare il soffitto non è un problema puoi agire sei messo male ma puoi agire mi faccio mi faccio una treccia con i serpenti dopodiché inspiro sto scherzando hai ragione con i miei compagni ma io dico perché non raduniamo tutti i fanciulli per portarli fuori e accamparci per la notte verifichiamo guardiamoci c'erano ancora quei fanciulli mezzi ebri che erano in qualche modo c'erano se avete ah scusatemi io non ve l'ho scerata ma perché presumevo ce l'aveste già aperta c'era gente semi ebbra qua ebbra addormentata qua e gente ebbra qua era più drogata drogati assolutamente che ebbra quindi sotto effetto di funghi allucinogeni dite prendo il corno ok lo osservo non so quanto grande sia allora aspetta che te lo giro allora hai presente la cornucopia è grande cioè immagina oddio non è enorme però la bocca del corno è una roba finale del corno è così e vedi che c'è proprio una un filo divino che stava ancora scendendo dal dal corno lo prendo con delicatezza ok faccio un attimo mente locale per ricordare cosa dovevo cioè mi ricordo che dovevo darci delle visioni vi ricordate che cosa doveva di vivo vi ricordate che cosa dovevate fare è solo guardare perché vanno bere dal corno ti ricordo bene dunque non qua dovete bere a grandi sorsate dal corno senza fondo del drago che vi rivelerà una visione a me reclusa esatto ma quella letteralina che non c'è esatto non la fra le mie note è questa un'immagine giusto quindi profezia oracolo la troviamo sì profezia oracolo sì io guardo gli altri vogliamo attendere e tornare al tempio prima di utilizzarlo o vogliamo usarlo adesso io sarei dell'idea che visto che probabilmente passeremo la notte qui dovremo accamparci qui io direi a questo punto di fare un po' di bisboccia e fare bisboccia con il corno non è mia intenzione a fare bisboccia se berrò vino sarò sonicamente perché è l'unico modo per ottenere parte della profezia per quanto mi riguarda fare acqua non hai acqua di fare al corno di produrre acqua allora fare festa in questo luogo macchiato di morte e regno della dissoluzione di Demetra non è qualcosa che desidero terrò i miei desideri fino al nostro ritorno in città lo ruberemo dal corno dopo intanto tuttavia non possiamo portare non possiamo portare via ragazze adesso non sono non sono in sé andiamo a recuperare prima quei ragazzi e poi le radici perché mi sa che dobbiamo sì volendo c'era anche la roba che mi è il giardinaggio se vuoi fare il giardinaggio me lo dici facciamo è una roba che puoi fare tra l'altro il falco non torna indietro perché non vede minacce c'erano le bacche le bacche le avete raccolte tutte c'erano volendo da raccogliere i funghi e i due veleni io volevo recuperare solo quello per il siero della verità se le bacche per la per il siero della verità se ok allora da capire come si fa il gigan comunque sto per che ha due scudi più due ok fammi un in realtà sarebbe un tiro di kit dell'erborista quindi sarebbe un tiro di destrezza con proficiency hai qualche skill che ha di destrezza a cui sei il pallino mi destrezza c'ho 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 pallino basta da su più due eh no volevo vedere il pallino c'è no perché è tutto wisdom e intelligenza vabbè se datti più due puoi fare il tiro ok allora tiriamo oh ok 16 più due allora io ho più tre di destrezza quindi hai fatto 21 allora ok ne recuperi se vuoi segnatele nell'inventario te le dico io anzi te li inserisco io dai te li inserisco io nell'inventario qua ti metto aspetta che lo segno qua una roba ok e ne recuperi 12 cioè non è che sono 12 funghi sono sufficienti alla preparazione di 12 dosi del siero della verità ti metto qua perché poi lo devi preparare in realtà questo è quello che fa il siero lo leggo per tutti è un siero che va ingerito chi lo becca deve fare un tiro salvezza su costituzione la difficoltà è bassa di c11 se non lo passa avvelenato per un'ora e per un'ora è come se fosse sotto zona di verità però vi ricordo vi ricordo zona della verità non puoi dire il falso puoi non parlare e si può rifiutarsi di parlare esatto ma per farlo ti dirò avrai bisogno durante mi dovrai fare anche lì un tiro di erboristeria anche quello lì per farlo o durante i riposi brevi o durante i riposi lunghi ovviamente durante il riposo lungo siccome occupo solo quattro ore di riposo lungo quindi in realtà mentre gli altri dormono io posso lavorare insomma perfetto direi che facciamo che per ogni ora di riposo puoi farne uno perfetto un tentativo un tentativo il gigan ha qualcosa di interessante sembrano armi normali sono due enormi scudi ed è armato di giavellotti e lance no se te pare vuole rifullarsi di giavellotti in realtà io un paio li ho lanciati quindi se vuoi li puoi recuperare tra i giavellotti puoi farlo direi di radunare tutti i ragazzi nella stanza dove stanno dormendo gli altri per evitare che mangino altri funghi ok ok in maniera da essere certi che rimarranno lì buoni buoni se vuoi ti facciamo il combattimento con l'erbetta che li controlla ok tirate un come volete fare a spostare un persuasion non sono drogati si scusate non possiamo chiedere all'oreus e alle ninfe di darci una mano si loro già hanno buoni rapporti ah ecco le ninfe tornate via e lo scoiattolo? cioè quello c'è ancora ma è più calmo o sta ancora impazzito? allora al momento fin tanto che siete lì sta facendo una danza tribale sul piatto d'argento tipo camminando in tondo intorno alla testa di Demetrio ah cringe poi se lo registri e poi lo fai lo fa andare il nastro molto lentamente se te la vuoi cioè proprio e sono qui adesso che faccio questa danza tribale per mandare all'inferno Demetra la voce di David Atanboru quella lì del doppiatore della del come si chiama National Geographic è quella lì è quella di Super Quark sono antiquato ok diciamo non è un problema nel senso un po' convincerli un po' con le buone un po' spingendoli li fate andare cioè loro sono sono fatti come pochi e diciamo che riuscite a farli andare tutti qua dentro nella stanza in cui dormono alcuni dormono altri meno quindi noi ci raduniamo insomma decidiamo di radunarci tipo in qualche posto più tranquillo e passiamo la notte insomma ok io sarei no io propongo di andarcene da qui di non rimanere in questo luogo e ragazzi li lasciamo li svegliamo e li portiamo con noi ma sono drogati tipo aspetta si potevano muovere giusto si però cioè devi immaginare hai mai avuto l'amico sbronzo no sono stato l'amico sbronzo esatto ecco allora te lo devono raccontare i tuoi amici com'era farti portarti in giro immaginane immagina di avere una decina di te decina di te per cui uno ti segue l'altro va di là l'altro si siede per terra l'altro è sfatto sul pavimento mettiamoci d'accordo sulla versione non siamo arrivati troppo tardi non siamo riusciti a salvarli no più che altro allora purtroppo è un peccato che le nifo se ne siano andate eh sì però volendo visto che c'è questa c'è questa diatriba tra come veniva gestita la situazione possiamo chiedere all'Oreus di restare qua con i ragazzi per poi guidarli verso la città e chiarire e chiarire che in realtà noi andiamo già avanti già diremo che è stata una sconfitta Demetra no ma non vorrai mica lasciarmi qua i nostri i nostri cammini si devono separare no ma temporaneamente vero solo gli udei sanno dove dobbiamo guidare i i fanciulli eh verso le dove verso la città la città dove la città è grande dove posso ritrovarti mio caro io li banderei dai coltivatori di vino altri non saranno amici ma comunque insomma vai lì e poi esatto i campi di Corina e comunque una volta che i ragazzi ce l'hanno ripresi sapranno anche loro dove andare credo di non sapere dov'è questo campo di Corina che dite Corina chiedi chiedi Temicle quando arriverai alle porte di Estoria Temicle alle porte di Estoria questo sì sì questo lo posso fare e li condurrai lì vedrai che ci sarà la persona la fanciulla Corina che è scappata da questa da Demetria che si accoglierà a braccia aperta ai suoi amici ok non voglio andare via ma io ero interessata due cose ancora se potevamo fare qualcosa la prima era noi non abbiamo trovato nulla dal punto di vista di carte documenti qualcosa che in qualche modo per capire il ruolo di Demetria all'interno diciamo della di Sidone di quanto fatto c'è possibilità di fare di cercare tipo in questa stanza potete cercare assolutamente sì non è un problema confermo che finora non avete trovato un tubo qua dentro no la sostanza l'avevate cercata sì lo stringo dove c'era c'erano tutte quelle gemme il mio amuleto eccetera anche perché volevo capire se c'era qualche traccia di come questo amuleto era andato a finire da lei insomma quindi in qualche modo cercavo qualche contatto quindi c'è possibilità insomma qui abbiamo visto che c'erano la camera da letto dove c'erano le menati la camera da letto dove c'erano i bimbi la camera da letto di Demetria e questo soggiorno nella cucina sì nella cucina sì io inizio a cercare la stanza ok sarebbe più un investigare questo che un perception se ti metti a fare la roba scrupolosa cioè di passare al petti nel deserto considerando che è anche la mia idea di cercare di capire che in che relazione era questa Demetra con Sidonis o Sidon che tipo di figlia era da chi era sarà veramente perché in teoria l'oracola aveva chiamata sorella sì però non mi sembrava della stessa razza forse non era più una sorellastra ecco era sempre una ninfa ninfa dell'acqua era no e non dell'acqua ok però è una ninfa di cosa più che altro si sa essendo una driade dovrebbe essere la terra degli alberi della terra esatto le dico tutte le ninfe cioè guardo Kira tu sai qualcosa su chi in tuoi Kif affos Demetra allora perché vedi ci sono le aure le driadi le naiadi le nereidi e le oreadi infatti l'oracolo è una nereide e queste sono delle driadi è una cosa sono le 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 ninfe sono una la natura che prende vita prende coscienza di sé quella è una è una ninfa cosa sa Kira di Demetra credo che abbia una storia molto triste quella purtroppo deceduta driade diciamo che l'odio il suo odio nei sconfronti del genere umano e dei signori dei draghi non è propriamente ma riposto vedete che è molto corrucciata quando vi dice questo gli umani sono in grado di fare cose grandiose tanto quanto terribili concordo concordo è vero spero di poter scrivere cose grandiose di voi come finora a me interesserebbe sapere cosa fosse o di chi fosse figlia vi dice non conosco in realtà sedite i genitori fisici di Demetria è un'antica è comunque un'antica antica driade era viva anche a anche più di 500 anni ed era viva al tempo dei signori dei draghi so che questa questo tempio era un tempio usato dai gigan fondamentalmente e è stato attaccato durante le varie guerre dei signori dei draghi e c'è stato un diciamo vorrei poterlo chiamare incidente ma non sarebbe corretto diciamo un atto crudele l'albero tagliato dai signori dei draghi è stato tagliato da uno dei signori dei draghi ed era l'albero della sorella di Demetria di la sorella che fine ha fatto non vorrei raccomlarvi troppo di queste cose qua ma ho il sospetto che sia ancora lì sopra l'albero ma quindi erano quelle scene erano le scene della sorella di Demetria ahimè temo di sì ma bando alle storie tristi dicevate che volevate festeggiare giusto ci sono anche altre azioni altre imprese che dovete compiere questo è solo stato il primo di molti grandi passi che vi aspettano davanti a voi prima fammi finire questa investigazione che stavo facendo ok vedo qualcosa con questo fatemi tutti un un insight cortesemente insight io no che tiro e e là vesciaris è chiaro che c'è magari qualcosa in più che saprebbe Kira ma sta toccando una nota molto molto dolente per lei nel raccontare queste cose cioè se hai percepito che si è sforzata a raccontarvi queste cose qua d'altronde già non mi volevi parlare di questo tempio ricordo quando te lo chiesi eri un po' corrucciata quando ti chiedi informazioni su questo tempio sì il vostro destino è il vostro verrà il momento in cui capiremo perché sei così reticente a parlare di questo di queste coppie di queste sorelle di cosa è successo se sarà questo il volere della madre tira qualsiasi cosa tu possa sapere se questo può darci una mano è di vitale importanza che tu condivida queste informazioni nel caso fosse di vitale importanza non esiterei a condividere non ne sono molto convinto la tengo fissa negli occhi come a cercare di leggere la sua risposta la risposta che legge nei suoi occhi è non oltre ricordati una cosa Kira mentre mi faccio più cupo tu ci stai seguendo e noi stiamo combattendo per queste terre soppesa sulla bilancia della tua esperienza della tua coscienza il valore delle parole che non ci hai detto si e i decidi credo che servirebbero solo a soddisfare una vostra morbosa curiosità senza aggiungere null'altro di quello che vi ho già detto se davvero se davvero quello che non ci vuoi raccontare non influirà sul nostro cammino eroico e non metterà in pericolo le nostre vite è giusto che tu non ci dica altro è sepolto in un passato lontano allora andiamocene da qui in quanto questo luogo porta anche ricordi dolorosi per qualcuno e non voglio soffrire in questo momento ok vorrei solo un attimino capire dove vorreste poi andare a riposare perché adesso iniziate a essere stanchini io direi nel giardino nel giardino sacro dei druidi ok che Stavros è felice perché recupera anche meglio no funziona una volta al giorno quella cosa lì te lo dico però è un posto piacevole sì sì il contatto con la natura è estremo e non intendo dire che è un campo nuvista una curiosità master prima il livello in qualche modo gli spell li prendi prima di dormire o dopo dormire teoricamente a riposo completato in realtà sarebbe la mattina appena sveglio i primi dieci minuti selezioni gli incantesimi quella sarebbe la durante la notte durante la notte recuperi gli slot ci sono come posso dire diatribe fra master se gli slot li recuperi al bam cioè fai ding o tutti gli slot al termine delle otto ore oppure si riempiono man mano è lasciato come lo vuol giocare un master siccome prendo goodberry allora mi facevo il problema se sprega cioè se utilizzare quegli slot vuoti che tengo per fare delle bacche per il giorno dopo oppure no ma visto che li prendo nella notte nella notte vi faccio fare il passaggio quindi nella notte vi faccio fare il passaggio quindi lo facciamo adesso il passaggio quindi Tommaso tu che te lo sai fare fatelo da solo a Vescharis poi vi racconto che cosa succede eventualmente allora classi faccio Vescharis che è qua per me il primo sorcerer di odyssey of the dragon lord bam e gli incantesimi tu li avevi già messi no non ho fatto nulla perché mi avevo dovuto fare nulla allora ti metto gli incantesimi tu ne volevi sostituire uno o no no ok perfetto e l'altro era guarda e dimmi se ho messo giusto ah devo aggiornare devo aggiornare i tuoi no aspetta perché me l'ha messo qua no aspetta me li ha messi negli slot sbagliati aspetta non me li ha messi sotto i allora aspetta uno ok uno c'è green flame blade c'è e l'altro ok e adesso ti aggiorno i sorcery point che diventano quattro daily basta poi fatto stavros le statistiche non aumentano no ah giusto tu aumentavi di due carisma bam bam fatto ok perfetto e stavros tu eravamo già qua tu aumentavi di due saggezza giusto esatto e poi niente aveva messo il livello quindi la vita insomma gli hit point sì ma quello me lo fai in automatico a me mancava solo la saggezza i due punti di saggezza l'hai già messo il resto la classe anche sui cantrip rimangono già soliti ok non hai messo non hai messo il livello aspetta 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 non hai messo il livello druido the odissea the dragon lord bam e quindi vai a 39 punti ferita mazza e ti devo togli eh perché lui adesso ha 19 di costituzione no ok ti devo mettere adesso tu di sacrifici ne hai uno in più perché erano pari al tuo modificatore di saggezza e quindi ne hai uno in più e ti devo togliere no l'hai già l'hai già fatto aspetta cos'è che dovevo togliere no il magic storm l'hai già tolto l'hai già tolto l'unica cosa i sassolini io li lascio perché potassi che ci sarà servirà un counter va bene lasciali le munizioni sì quelle lì lasciali andros tu hai già fatto vedo e telperion tu hai già fatto giusto perfetto a posto quindi allora prima cosa facciamo un po' di robine tecniche da avanzamento di livello che è avete un paio di oggetti li volete studiare o non li volete studiare io studio l'arco l'arco e il corno e il corno io studierei il corno se fosse possibile allora io farei studiare a veshare il tiro cos'è arcano eh no non c'è da tirare non c'è da tirare ah ok allora no lo lascio studiare a veshare è un oggetto arcano e lui è più portato per queste cose chi è che se li hai presi tutti i veshare gli oggetti però io lo corno perché l'avevo preso io ma adesso lo rimetto in inventario no 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 mi va bene è solo che devo capire chi cavolo ce l'ha perché se no allora a horn a horn allora comincio col corno di balmitria richiede sintonia se lo volete usare come oggetto e ha due parole di comando una produce del cibo delizioso insieme a acqua e vino in una quantità sufficiente per sostentare sei creature per una giornata se bevete vabbè a mia descrizione se ogni tanto bere dal vino potrebbe indurvi in in sonni profetici la seconda parola di comando produce un vapore mercuriale paralizzante una nebbia argentea esce dal corno creando un una nube che all'inizio è larga 5 e aumenta di 5 a ogni round fino a diventare di 30 feet e devi fare chi è all'interno della nube deve fare un tiro salvezza di costituzione 14 o essere paralizzato per un minuto mamma mia qua non l'ha scritto ma lo metto alla fine di ogni round hai il diritto al tiro per liberarti lo puoi fare alla fine perché se no non ha senso se no dice salve c'è un dio resta qua fino a che non ti entra poi hai un minuto in cui ti schiaffiamo ti tiriamo schiaffoni con vantaggio cioè uccidete a livello 5 un livello 20 una ok seconda cosa chi invece aveva preso l'arco io fine shop e non ho sentito c'erano anche frecce vediamo no in realtà frecce non ce n'erano va bene troverò allora fine shop adesso ve lo dico in italiano prima perché capirete perché a me si erano drizzate le orecchie perché in italiano si chiama arco corto del desiderio e quando uno dice arco corto del desiderio pensa a wish e invece esatto una freccia un desiderio no comunque innanzitutto è della cupidigia desiderio inteso come cupidigia quindi è comunque un arco corto più uno una volta al giorno quando colpisci con successo puoi forzare il bersaglio a fare un tiro salvezza 14 su saggezza se fallisce sciarmato per un'ora prima colpisca la freccia poi diventa amico mio va bene sembra quello di cupido no ok quando vi ragazzi non so se lo avete ve l'avevo detto a inizio campagna guardate che qua caccano fuori oggetti magici sì sì avevi detto siamo al basso livello e già ne abbiamo trovato ovviamente richiede sintonia però vi arrivano una marea di oggetti magici che non è detto che sappiate usare ad esempio l'arco corto nessuno di voi è un rogue per cui non è l'arma ideale sono fatte in maniera tale che qualsiasi composizione di parti abbia provi qualcosa sì però l'arco corto schifo non fa perché comunque no no tra l'altro le hanno fatte malissime il tipo hanno messo weapon cristo questi che hanno tradotto l'avventura non sanno non sanno d e d non conoscono d e d devi mettere simple martial simple ranged weapon devi mettere perché è l'arco corto è una simple ranged mi confermate tutti che è una è una semplice la distanza quindi tutti quelli che hai simple weapon puoi usare lo short bow ma guarda se penso un attimo il la spada di Claude in Final Fantasy si chiama Buster Sword ok che è la la spada che spezza più o meno la spada del soldato in italiano l'hanno tradotta in spada potens e tu scrivi ma perché hai tradotto lascia il nome in inglese a sto punto se devi mettere una parola che comunque non è italiano ma che cazzo su alcune cose non concordo ma in questo caso non concordo doppiamente perché ci sono alcune cose che come se fosse magic ci sono le keyword alcune keyword hanno implicazioni nelle regole e se tu mi dici è AWIPPON che cazzo vuol dire AWIPPON come categoria di arma è un'arma grazie al cazzo lo sapevo che era un'arma allora comunque veniamo a noi ok vuoi provare già a fare Andros alcuni tiri per per i sieri Stavros intendi Stavros scusami Stavros sì sì dimmi tu direi che tu hai quattro ore per fare sta roba qua ok quindi ne posso fare quattro ok ti tiro sono quattro tiri con per in realtà è la solita roba è natura in realtà va benissimo medicina hai proficiency sì va benissimo tira su quello una fatta vai ok no è venuta male proprio malissimo neanche e direi di sì allora mi chiedo quattro anzi ti dirò questa ti è venuta talmente bene che ti do ci di tredici anziché undici su questa ti hai fatto venticinque sul dado e quindi ti darò tredici quindi le dovremo segnare aspetta che te lo dirò qua items te le metto così se vuoi ricordati che una delle due è quella che ti è venuta bene che ha tredici invece di undici mettici un segno da qualche parte voilà e scalati però quattro dosi di di funghi perfetto otto funghi e poi e due serie della verità fatti allora truth serum lo posso modificare in dico di 13 uno dei due basta che ti metti la nota su uno dei due che è cambia il nome metti tipo truth serum 13 perfetto è quello che ho fatto chiamalo così truth serum ok uno è da uno e l'altro 13 ok ricordiamoci allora per me siete e poi mi sono fatto anche 20 bacche no quelle le fai il giorno dopo quelle però le fai il giorno dopo vabbè perché avevo questo 8 eh ma non puoi farli la sera prima vabbè la lasciata io perciò te l'avevo chiesto no no è perché non avevi le bacche la sera quando sei andato a dormire non avevi preparato le bacche quindi la mattina hai resettato io lo scopo è quello perché siccome molto spesso io mi trovo con degli slot liberi ha perfettamente senso solo che non avevi già preparato le bacche allora vi ricordo non so se devo riacchiappare fuori la mappa ma magari lo faccio sì chi è saltato? Francesco è proprio blop vediamo eccolo qua bene Francesco perché proprio tu quando ti svegli la mattina ti trovi a fianco una montagnetta di ghiande e vedi che c'è a fianco a te lo scogliatolo che fa ok hai fatto colpo ho fatto colpo sullo scogliatolo forse perché ho il corno vuole scroccare da bere probabilmente per questo o forse perché ti ha visto malaticcio e voleva dire magna un po' perché devi ah perché ok devi tirarti un po' su ah non vi ho fatto scusatevi non vi ho dato il riposo lungo perfetto long rest fatto perfetto ok adesso mi sveglio proprio alla grande tutto nuovo io più forte ringrazio lo scogliato poi ve lo dico perché queste sono avventure scritte nelle campagne che faccio io ormai mi sono convertito all'idea del non si recuperano i punti ferita durante la notte recuperi e lei proprio prese madonna no allora se fai le campagne tue è l'unico modo di mettere uno stop se no in quinta edizione non ammazzi nessuno se cioè a meno a meno a meno che non però portare a zero non è uccidere se ci metti mostri che fanno 75 HP a colpo e attaccano due volte a turno a te non serve mettere sta cosa che ne recuperi allora va detto che questa avventura i mostri sono tostarelli perché più che altro decidete voi l'ordine in cui li affrontate e non scalano in base a voi quindi alcune avventure saranno più o meno facili o difficili allora è mattina quindi vi risvegliate e 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 con vesciare sostanzialmente ci sono due incantesimi o in uno di essi con uno di essi possiamo rifocillarci di cibo e bere giornalmente quindi può sostentarci più che sufficientemente per quanto riguarda il nostro intero gruppo e forse qualche persona in più l'incantesimo eh più singolare invece eh permette di emanare una sorta di nube nel cono e e influenzare sostanzialmente i nostri nemici i nostri eh sì esatto i nostri nemici per l'appunto in realtà chiunque si trovi nella nebbia ah ok perdono mi ha ragione chiunque venga colpito per l'appunto dagli dai flussi dalla nebbia che da essa viene emanata quindi dovremmo fare molta attenzione a non trovarci coinvolti probabilmente ci tornerà utile contro un quantitativo maggiore di nemici non credo sia particolarmente efficace contro entità di grandi potere ma potrebbe tornarci utili contro un numero allora fossimo in netto svantaggio molto interessante qualcuno di voi è entrato in sintonia con gli oggetti cioè qualcuno se li attuna gli oggetti io ho già l'amuleto l'amuleto tu sicuro perché hai fatto il riposo breve e te lo sei preso già l'altra volta con il riposo breve l'arco Andros te lo no te lo metti chi è che se lo piglia il corno chi il corno chi il corno io ho preso l'arco io ho preso l'arco perché te lo vuoi te lo vuoi attunare l'arco sì ok c'è tempo durante la cosa quindi lo puoi fare e sei in sintonia con l'arco ok il corno uno di noi deve per forza di cosa attunarsi per utilizzarlo c'è Aris direi che sei il più indicato più che altro ti vedi vedi tre persone che ti osservano lo prendi tu è l'evento psicologica praticamente d'accordo mi farai l'uso più corretto però niente in contrario torniamo alle storie direi che è il nostro prossimo obiettivo però non è che mi posso trasformare in war wars e li porto velocissimi tutti e tre in gruppa tutti e tre no tutti e tre no un paio il terzo ti il terzo ti blocca ok io posso tranquillamente camminare per me non ho assolutamente un problema tuttavia il primo pensiero è questo abbiamo impiegato praticamente tre giorni a venire qui e ce ne vorranno altri due per tornare storia no con questi così un giorno e mezzo un giorno e mezzo un giorno e mezzo esatto no neanche no allora attenzione sì ma perché avete anche no quanto tempo dite non è vero ci avete messo una giornata ad arrivare là la giornata quella del sacrificio l'abbiamo chiuso dormendo nella radura nel bosco dopo aver salvato Corinna esatto e da lì infatti adesso è aspettate che lo segno adesso è il 29 voi siete arrivati ad estoria il 27 il 28 l'avete fatto fuori con tutta l'avventura e quant'altro e adesso è il 29 mattina quindi va bene un giorno per tornare a storia quindi sì cioè arriverete a storia in tardo tardo pomeriggio neanche 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 il mio suggerimento è di arrivare a storia prima possibile utilizzare il corno e poi riconsegnarlo ricordiamoci che domani abbiamo dei basilischi da battere ok sì e vi ricordo che invece domani ok sarebbe l'uno è il 4 il sacrificio in teoria ovviamente però dovete concordare di essere voi prima di quella data se no è la figlia è la sorella di Telperion sorellastra allora ragazzi ricordiamo io ricordo ai ricordi del Peleron Andrus e Vesciaris e non ci dimentichiamo ancora dobbiamo ancora parlare con il con gli Huffling per capire se hanno anche altre informazioni e poi non ci dimentichiamo che poi c'è sempre quel temicle Corinna a cui dobbiamo comunque dare verificare se Corinna è tornata sana e salva a casa passando di lì potremmo fare questo non dimentichiamoci che abbiamo moltissime cose da fare per quanto il tempo sembra tanto in realtà è tiranno e c'è avverso per non parlare che forse anche tuo padre Telperion deve essere messo a conoscenza di questa situazione di Demetrio direi di sì dovremmo dire che ci offriremo noi al posto di mia sorella dobbiamo stare molto attenti a come lo diciamo però perché se lo diciamo in modo sbagliato saremo legati con catena a un palo di ferro lascio la scelta delle parole a te Andros la tua lingua spesso è più tagliente della mia spada con sopracciglia vedrai ripensarci bene allora allora ragazzi avrei qualcosa a ridire in questo gli aiuti sono ben accetti di lasciare allora è una giornata abbastanza tranquilla in senso c'è un vedete il sole filtrare attraverso il è una partita in testa la canzone dell'opera Pierino e Lupo si però cantata dal vecchietto dei Griffin oddio no no allora per cui vedete il filtrare il sole attraverso il fogliame il fitto fogliame della foresta una volta che uscite vi ho messo nella mappa più o meno dove siete come zona quando uscite dalla foresta passa dov'è qua così lo vedono anche da casa vedete che improvvisamente il cielo si riempie di nuvole nere e udite echeggiare il rombo di un tuono notate il bagliore d'argento tra le nuvole a prima vista sembra un fulmine poi lentamente si rivela a essere un magnifico drago d'argento una figura ammantata di blu cavalca al drago che vola lentamente in cerchio sopra di voi la figura mentre è ancora in aria vi intima rinunciate alla vostra impresa e prostratevi dinanzi alla potenza di sidon poi la sua voce cambia in qualcosa di profondo e inumano non immischiate scusatemi vado in inumano non immischiatevi in eventi che vanno al di là della vostra comprensione il drago svanisce tra le nuvole soprastanti e un fulmine taglia in due il cielo la terra inizia a tremare quando qualcosa avanza a passo rombante verso di voi una sanguinaria banda da guerra di centauri che si avvicina a passo di carica e volete cortesemente tirarmi l'iniziativa forse è tempo di sonare la tromba io sorrido quando li vedo arrivare infilo l'elmo stringo lo scudo avevo bisogno di fare un po' di ginnastica rocchio le spalle io d'accordo se volete giocare sporco giochiamo sporco ma proprio partiamo eccettiva tranne davvero vabbè 8-12 poi non so se si è capito quello che ho detto con voce inumana si 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 è capito si è capito si è capito che sicuramente non ci voleva bene era Kaius giusto? allora riconosciamo Kaius il gerago che avevamo visto dal palazzo di Pythor fatemi fatemi un perception ok eh si infatti volevo madonna sono scarsissimi in perception io sono cieco ovviamente ci penserò io ho fatto 18 però pure 1-2-3-4 allora si è volutamente tenuto nascosto dalla sagoma del drago la voce tuttavia vi suona familiare di draghi d'argento non ne avete visti molti di gente vestita di blu ne avete vista parecchia che dire non avete la matematica certezza non l'avete visto in volto ci sono molti draghi d'argento ecco vuole mettersi in mezzo sul nostro cammino significa che ha paura andiamo in modalità aspettate qua combat andiamo in modalità teatro della mente qua sopra perché siete ormai in mezzo a questa aratura c'è un terreno abbastanza libero rimanetemi andros a fianco a me stavros sulla mia destra bescharis in mezzo allora andros agisci perfetto andros agisci per primo al quando arrivano riescono sono sono dietro di te del pedo cioè sono al tuo contatto però dietro fermi tutti lasciatemi testare il corno ok vai allora andros tocca a te per primo stanno arrivando sono in movimento di carica quando arriva loro arrivano alla carica cioè stanno correndo queste quattro quattro ok l'azione preparata ok quando allora l'azione preparata lascio bescharis usare il corno perché comunque tocca a me subito prima di più di che mi metto a fianco a bescharis cercando di non stare ovviamente nella nella nebbia e pianto la lancia a terra nel senso che se arrivano si impiantano in realtà semplicemente facciamo stai preparando l'azione per attaccare se ti arrivano in carica ok l'idea è che quando arrivano si imparano sul lancio ok magari danno gli svantaggi per evitarla che ne so ma tu sta che bescharis tocca a te si stanno avvicinando è proprio ok riempie i miei polmoni ammaciati sostanzialmente di tale che posso dopodiché soffio nel corno sostanzialmente è curioso di capire cosa fa ovviamente attivi la parola ok la potera ti ricordi ti ricordi come funziona la roba no sinceramente eh allora dopo che lo attivi inizia con una bolla di 5 feet poi diventa di 10 15 20 25 30 ok se non vuoi rimanere dentro lo devi devo fermarmi sostanzialmente no che devi fermarti lo devi lanciare il corno ah lo devo lanciare proprio ok va bene cioè oppure rimani nella zona di nebbia anche tu cioè inizia vedi che dopo che soffi inizia avete presente le macchine del fumo vedi dal corno che inizia a colare questo fumo denso ok se ci finisci dentro tu nel fumo denso paralisi anche a te ok pensavo che in realtà che il jet fosse abbastanza forte da andare in avanti non che mi cadesse sui piedi praticamente no però hai il tempo di cavarti dalle valle quello sicuramente sì però o lanci il corno o lo molli lì e te ne vai indietro o quello che vuoi lo lascio lì per terra sostanzialmente la volta che ho avvolto con la nebbia lo lascio considera che sono di fianco a te quindi se lo metti davanti e te non sotto io rimango lo lancio un paio di metri davanti a me ok e quindi già diventa una roba con raggio 5 feet allora tocca loro tocca loro è molto più avanti perché poi dopo a ogni cioè è solo 5 oppure ogni round aumenta di 5 quindi possiamo fare un passo avanti indietro ogni round praticamente allora tocca loro ah facciamo così facciamo così che lo fa lo domando così a Vescharis direttamente diciamo che per me siete raggruppatis raggruppatis Andros Vescharis e Stavros Stelperion ragazzi non vedo nulla in questo momento è normale sì è giusto non c'è niente non c'è niente di condiviso c'è questa se volete di condivisa ok ma va bene ce l'ho già no no siete Andros Vescharis Stavros Stelperion chi chi vuoi dove dove lo butti il corno su chi si frappone su quelli che vengono verso di te o quelli che vengono su Stavros Stelperion quelli che vengono verso di me ovviamente ovviamente istintivamente li buttano davanti a me poi loro vedranno se si aprono ok 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 adesso vediamo lo butti davanti a te allora olè primi tutti in qualche modo con lo sguardo verso stavate fai conto che stavate stavate andando in fila indiana come vi muovete di solito quando andate in giro tra cui arrivano Andros si affianca a Delperion io indietro a Delperion e Vescharis dietro ad Andros ecco in effetti per come è messo qua allora scusatemi lo state vedendo il party shit party shit se andate sull'ordine vi attaccano dai fianchi ok li attaccano dai fianchi quindi lui lo butta qua in mezzo il il corno ok ok lo butta qua in mezzo il corno allora quindi prenderà sicuro quelli che puntavano a Vescharis e Andros però quelli che puntavano a Stavros e Telperion no andiamo in ordine quindi è un tiro salvezza su saggezza avevamo detto vero? si esatto su centauro 1 e 2 allora tiro salvezza su saggezza il primo è paralizzato bene il secondo è paralizzato benissimo direi allora il terzo il terzo è caricante aspettate che li metto qua mi si attiva la reaction allora adesso arriviamo aspetta un attimo centauro 1 paralizzato aspettate se no poi me le dimentico queste robe centauro 2 paralizzato centauro 3 va contro Telperion e quindi poi fagli un attacco di opportunità perché quando arriva è vicino a te Andros lo puoi gli puoi tirare un colpo preparata si che attaccava il centauro quando mi arrivano attacco quello paralizzato davanti a me non quello paralizzato cioè se è paralizzato non c'è arrivato in corpo a corpo te ok si è si è ha buttato ha buttato il corno davanti a sé quelli appena arrivano nella zona del fumo bam si sono bloccati quindi non arrivano in corpo a corpo a te però in corpo in corpo a corpo in corpo a corpo ti arriva quello che sta andando a menare Telperion perché ok allora attacco il 3 si ok come osa venire in corpo a corpo con me oppla e critta a cosa da lancia infilata da lancia infilata nel terreno oppla ha funzionato gli ha pure fatto male minchia gli ha fatto male sì ok ora tocca a lui che però completa il movimento di carica e prova ovviamente a tirarti un colpo di picca andiamo 21 è stato lì sul sul coso occhio al dolore ti becchi 10 aspetta 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 vabbè quindi 7 7 no perché mi ha preso il danno su è scritto male sti effetti non li sanno neanche scrivere vabbè te li metto così più 8 di carica più 8 di carica malissimo ho tirato ho tirato bassissimo tra l'altro potenzialmente passavano i buchi questi ok tocca all'altro quindi il 3 è praticamente lì che è in corpo a corpo telperion e andros è vicino cioè è davanti a telperion aspetta un attimo scusami un secondo che ho dimenticato perché poi ti tira un colpo di zoccoli pure sta zoccola vabbè oh yeah ma ti manca col colpo di zoccoli l'ultimo prova a caricare Stavros e vediamo come va ragazzi sono tostissimi sti qua critta aspetta aspetta utilizzo il very barbs esatto il very barbs quando vedo che praticamente la lancia del centauro sta per conficcarsi in pieno torace a Stavros sollevo la mano sinistra praticamente e devio praticamente la mente del provo a deviare la mente del centauro e basta vediamo 19 prende ma non è critico meglio il critico con la carica e quindi ti fa 10 più devo tirare eh ti 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 dici danni mamma mia ma han colpito i due più ciozzi e a chi dà il vantaggio Veshares direi il vantaggio dopo Stavros ok e attacco di zoccoli ma perché l'altro mi segnava molti più degli attacchi 11 ti manca anche lui con gli zoccoli non riesce a colpirti cioè dopo aver colpito prova a tirarti i colpi ma non ti fa nulla allora per capire io ce n'ho uno davanti a me che è venuto in carica che ti è venuto in carica ne hai due che sono paralizzati a tipo 10-15 fit da te ok ce ne sono due tutti però nella stessa direzione cioè sono tutti se noi siamo avvineati tutti davanti a noi guardate ve li metto nella mappa vi metto nella mappa che così capite andros vesciaris stavros telperion avrai tipo qui c'è il fumo grazie per il follow qui c'è il fumo e abriamo centauro uno si adesso vi sto tenendo uniti ovviamente saranno ma questi sono varici sono si si sono grossi per quello infatti ve li sto tenendo in realtà un po' più grossi ok e poi centauro a voi sareste un pochino più non è che stavate attaccati attaccati ok questo così e avrete centauro 3 che è arrivato tipo qui e centauro 4 che invece è su stavros ok così una roba di sto genere qua ok almeno così così vi risulta un po' più comprensibile com'è la roba ok ovviamente hanno caricato da questa direzione qua 10 20 30 e all'incirca sono 40 piedi la distanza tra i due centauri no e allora vi cancello le mappe non guardare non guardare i dati usa la descrizione cioè sì no non è che sono 40 feet cioè saranno molto di meno 10 feet la dimensione della la dimensione della è 10 feet la dimensione della nube quindi c'è uno spazio di 10 feet in 10 feet quindi in qualche modo 40 feet occupano 10 feet io immagino che 10 feet sia tipo la nube che gli ha buttato così ok 5 è presso il turno 10 sì hai ragione quindi 5 no per chiarire così scusami così e ne hai presi due con il nube uno è passato a destra uno è passato a sinistra ok tocca a me a stavros decisamente sì direi aspetta un attimo che voglio capire una roba perché non funziona sta roba qua adesso appare ok stavros toglierei le teenage girl ora io mi trasformo adesso le tolgo quindi è per capire tu ne hai davanti uno e poco più in là ce ne sono altri due paralizzati ok adesso tolgo le teenage girl allora al momento vista la situazione molto caotica mi trasformo in in gorilla ok è sempre medium vero? sì e quanti punti ferita hai temporanei? quanti punti ferita ha il gorilla? 19 e ca12 ok ti segno che hai 19 punti ferita temporanei allora il vantaggio dell'essere gorilla è quello di fare un doppio attacco ok ricordi che non casti in forma di gorilla eh sì 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 ma dal strondo io ho quasi tutto in concentrazione sto MLE quindi perderei lo spell va bene va bene no è solo quindi tu bobi o mazzare sperando il primo attacco ai vantaggi ricordati il primo attacco ai vantaggio perfetto allora Walship pesa sì stavo cercando di capire solo se posso automatizzarlo allora a vantaggio MLE attacco allora chiaramente attacco il centauro 4 quello che è davanti a te sì eh preso ah brava pensavo che no sono ancora fattibili e quindi ok sei danni poi faccio il secondo attacco questo e quindi dia il cazzottone ancora ma trasformarsi è una bonus ah no hai ragione non puoi attaccare ha ragione come non sei un druido della luna mi ero preso dalla furia gorillesca ok il vantaggio ti rimane per un minuto ma sul primo attacco grazie grazie della chat anche che hanno ricordato telperium tocca a te aiutiamo gli altri per quanto mi riguarda faccio un passo non per muovere sulla mappa ma faccio un passo a fianco ad andros guardo gli altri gli altri in alto gli scudi faccio uno shield wall come bonus e poi attacco il centauro che è già stato massacrato da dal mio amico quali scudi in realtà è preso 12 non hanno grande armatura è messo malino inizia a sanguinare ok ho dimenticato di fare il tiro salvezza scusatemi ai due centauri per vedere se le 14 allora beh scusami no non devo farla devo fare no alla fine del loro round scusatemi un round intero se lo devono beccare eh appunto alla fine round devono far beccare su un round intero giusto andiamo a vedere se si devono rifare un tiro salvezza su saggezza tutti e due e uno lo passa e due lo passa miseria ok sono un po' un problema ok ok si sono quindi adesso prende quello davanti adesso esatto esatto adesso si allargerà la cosa il vapore quindi Andros tocca a te al turno al turno di Vescharis facciamo alla fine del turno di Vescharis la la zona si allarga non siamo ancora dentro però no ho capito no ok e al prossimo tu lo devo spostarci ok attacco quello che è davanti vedo se riesco a finirlo preso colpire lo colpisco qualche danno io lo faccio preso e beh uso anche la bonus e faccio e faccio l'attacco marziale e vai giù no no ma io quanto resiste in testa tizio uso il ki e lo attacco ancora beh in realtà dovevi dichiararlo prima hai ragione perché è un ki per fare però avevi detto che volevi fare due attacchi o no no non mi ricordo no no va bene così però uso il ki posso usare il ki per mettere in dodge giusto? no perché è una buona usare è sempre una bonus action mettersi hai un'opportunità ok perché vado a mettermi tra stavros e vescharis perché nessuno di due ha uno scudo quindi il bonus di telpari non funziona su nessuno 17 ti manca perché hai più tu hai il più più tre adesso ok ti metti qua esatto ti metti a proteggerli quindi col mio shield wall loro due hanno più due in CA dimmi dove ti vuoi piazzare se tra loro due esattamente tra loro due ok ricordatevi che quella zona adesso poi si allargerà da 5 vescharis spostati indietro da 5 diventerà 10 stavo un passo indietro a stavros anzi anzi cioè diventerà così eh circa ok quindi tu tu li sei ancora fuori vescharis inizia a essere al pelo a retro d'accordo quando vedo che comunque la nebbia si è vicina è per descriverla ragazzi la vedi che si sta espandendo è la zona stavo un passo indietro a stavros a stavros esatto e lascio e vesceli con vescelia si mettesi dietro di me farò io a muro contro loro due e alzo lo scudo tu vedi di venire a battere quello di Talperion penso io che stai parlando cioè vai così vai così in pratica giusto? vescelia ho detto si ho detto vescharis metti i titoli di me e vedi la battere quello di Talperion ok ok vabbè allora tocca a te vescharis ok quello di Talperion lo vedo particolarmente ferito quello di Talperion è bello ferito sta sanguinando parecchio ok allora non consuma diciamo le fonti di potere maggiore sai che verrà colpito dalla nebbia probabilmente tra poco ok lui lo che non viene colpito sarebbe il 4 cioè il 4 che abbiamo davanti praticamente esatto esatto vabbè allora beh tu ma utilizzo il firebolt su quello che è in corpo a corpo a Stavro senza sbilanciarmi troppo confidando negli effetti della nebbia ok così che Talperion morì no dai che sfiga si becca tra due attacchi preso se colpisse gli ammazzavi il centauro evitava di farsi colpire ma dai che gufata due danni ok poi rimani lì o indietreggi per evitare un po' la nebbia ok perfetto così dietro di me così il centauro non ti attaccano o devono comunque passarmi per attaccarti vabbè allora avanza mi dovrà fare il tiro salvezza il centauro 3 e si salva ok a questo punto tocca gli altri due che non capiscono molto bene quindi avanzeranno un po' ma avanzeranno fino a qua e quest'altro avanzerà fino a qua non riescono a fare la carica non riescono a fare la carica quindi attaccano tutti centauro 1 proverà a tirarti una piccata a Vescharis esatto Vescharis più 2 17 quanto hai in totale tu adesso in questo momento ho 15 15 15 no ho 15 con il più 2 17 ti prenderebbe sì potrei utilizzare in realtà shield per deviare il colpo altrimenti mi apre dimmi se lo uso o no utilizzo shield sì ok scudo una barriera che para all'attacco della picca ti tira poi invece ad Andros con gli zoccoli prova a colpirti e ti missa malamente e siccome comunque ha finito all'interno è comunque toccato dalla nebbia tiro salvezza glielo faccio fare perché se finisce il suo round lì dentro me lo dovrà fare no ed è paralizzato non gli avevo tolti i paralisi a quelli là adesso vedremo come va a finire alla fine di questo round il 2 puntano a fare raddoppio su telperium che ha visto che sembra isolato e quindi faranno picca zoccoli picca zoccoli 21 è giusto vero eh sì io ho 21 allora picca ti fa 14 danni quindi 11 danni mamma mia e zoccoli timissa l'altro quello ferito gravemente stessa cosa picca timissa zoccoli timissa tutti e due devono fare il tiro salvezza perché anche loro restano nella nebbia il 2 è paralizzato e anche l'altro è paralizzato beh dai il corno da una mano perché qua eccole qua perché non rimane il repeat allora sì sì il corno vi sta aiutando di brutto allora l'unico non paralizzato è il 4 giusto yes Giuseppe quando uno è paralizzato avete vantaggio se non sbaglio hai vantaggio da colpirle se lo colpisce è un critico automatico quindi devo ricordarmi se è solo corpo a corpo la cosa del vado a vedere se è solo ma lui è un gorilla che fa due attacchi è vero che stavo pensando di far inganciare una pietra a quello a Deferion che può fare ormai era già attaccato però comunque sarei io quello che volevo fare era fare il avevo il vantaggio mi giocavo lo svantaggio che avevo il centauro a fianco quindi tiravo normale per colpire il paralizzato che stava davanti a Deferion per finirle per prendere il bless tutti quanti questa era la questa era la però però gli attacchi gli attacchi sono tutti con vantaggio su quelli paralizzati e se fai un attacco mele entro 5 feet da uno paralizzato è critico automatico se entra e fallisce automaticamente le prove di forza o di destrezza i tiri salvezza su forza o destrezza 4 alla fine di dove mi ha attaccato ah già no non sta nel gas quindi tutto apposto tocca al centauro 4 giusto? no no hanno finito i centauri ah no scusami no ma hai ragione manca il centauro 4 manca il centauro 4 che prova ad attaccare picca e io c'ho 18 e adesso perché non ho lo scudo come fai ad arrivare a 18 16 naturale più 18 come perché 16 la scimmia ah già che festa qui sono 12 più 2 14 così mi torna normale perché 16 vediamo picca missa 13 zoccoli fatto bene venerdì in mezzo missa ha missato con tutte e due l'aspetto di Stavros si cute timore che paro che paro tutto praticamente fermi ok Stavros Stavros tocca a te ricordati che poi avanzerà ancora questa nebbia perfetto allora io per forza eh sì però poi alla fine io wisdom mi auguro di poterlo superare la beh comunque sia il mio problema è io c'ho un vantaggio a colpire che mi ha dato prima le chance corretto c'ho il vantaggio a colpire perché è paralizzato quello davanti a disperior sì ho lo svantaggio a fare rigid perché c'è quello davanti corretto in totale ho un vantaggio no se non si sommano e poi si allora innanzitutto no no c'è uscita la regola non importa quanti vantaggi o svantaggi hai cioè bastano tre vantaggi cioè scusami se hai quattordici vantaggi e uno svantaggio tiro pulito quindi quindi in realtà aspetta vado di più con cosa gli tiri ranged è col gorilla il gorilla può lanciare il sasso può lanciare un sasso ranged ok lo raccoglieresti per terra e lo butti perché ricordati che non hai l'inventario da gorilla no no comunque è proprio previsto dal gorilla il gorilla lancia ah sì sì prende un sasso il gorilla prende un sasso da terra e lo tiri ho due attacchi mischia o un attacco ranged io sono in fame se sono in un posto dove non ci sono pietre vabbè dai comunque faccio a questo punto approfitto di quello paralizzato vicino faccio l'attacco quindi sempre con vantaggio e se lo colpisca è anche critico vai tira con vantaggio prima volta uno due volte il tag del cetaro uno perfetto preso quindi questo è critico giusto questo è critico per fare critico era tieni tieni shift premuto e tira il dadi dei danni ok ok ho un attacco ah li stai già applicando tu hai già messenato lo prendo di nuovo dalla chat suggeriscono Tommaso si cacca in mano e gli lancia quella guarda non avrei saputo dirlo meglio ma comunque 20 20 di danno ah 20 danni e infatti inizia ad accusare resti lì poi sì no sì abbiamo detto abbiamo detto di sì ok non posso fare eh Telperium tocca a te Telpi la nebbia vedi che sta avvicinando allora stringo i denti provo a porre fine all'esistenza di questo centauro davanti a me il 3 non è paralizzato si è paralizzato sono tutti tutti paralizzati preso ed è critico automatico faccio ed è morto il centauro 3 nella bonus mi faccio un second wind perché non sto per niente bene e dopodiché girando attorno al centauro mi metto a fianco di Vescharis sempre tenendo alto lo scudo ok stringi i ranghi si tra l'altro non era un problema perché questo è paralizzato quindi non può fare attacchi di opportunità era per cui l'unico è quello che ho io davanti l'unico è quello vicino a Stavros e aspetta quello davanti a Stavros è il centauro 1 è sempre paralizzato sai cosa ti dico c'è un surge ok l'uno ok preso è critico ragazzi è un critico in più oh cazzo ho tolto ho tolto per fare la roba ho tolto dove era era messo qua vero sì al prossimo turner va giusto a bordo tutti qua mi pare che fosse fin'altro sinistra questa è da 15 questa è per torno a successione aspetta così era così sì mi pare perché prendeva anche quell'altro sì ok è messo malissimo e hai finito giusto sì ho finito direi che ho fatto anche abbastanza ok ok tocca ad Andros osservando un attimo la velocità del fumo ho ancora tempo per restare qui o devo spostarmi adesso giudicando se dovresti farcela ancora ok allora attacco il 1 e uso anche beh intanto faccio l'attacco e con peer preso ed è critico automatico shift vero giusto ok ed è morto perché uso un key e faccio un flurry su quell'altro sempre quello paralizzato bisogna essere pietosi finché si può dunque uno colpisco e un altro bello questo con 12 danni con un calcio preso 19 eh sì però 19 danni di ginocchiate questo qua eh esatto nei denti ok ok e rimango lì per proteggere Stavros ok Vescharis tocca a te ok io siccome voglio concludere uccidere per l'appunto il 2 direi utilizzo il il firebolt contro di lui lui è a svantaggio o no perché no perché non può non è una minaccia finché è paralizzato non può ah è bene effetti cioè non può fargli attacchi non rischia niente è immobile quell'altro ok sarebbe come dire ho svantaggio perché ho in mele una statua no quindi hai vantaggio a colpire però un danno normale perché a distanza esatto non è critico automatico comunque però ci pensa lui ma per il critico devo premere shift giusto? no non serve hai fatto critico lo shift serve quando vuoi forzare il critico anche quando non è critico ok va bene altri 8 danni non glieli hai applicati diretti glieli metto io ah pardonate è messo molto male allora tocca loro beh il centauro 2 farà il suo bel tiro salvezza e basta e non lo passa rimane paralizzato brazzo il la nebbia diventa c'è qualcosa che sto sbagliando sul sul sequenza eh perché non è possibile che devo farlo solo quando finiscono il turno dentro perché alcuni glieli ho tirati quando ci entravano però così finisce che fanno due turni bloccati ma non importa il 4 Stavros fagli un tiro attacco di opportunità se vuoi vieni a prendersela con noi o scappa no scappa beh sì è plausibile in effetti eh ok missi niente e ve lo tolgo direttamente perché ragazzi a meno che non vogliate attaccarlo da molto range questo fa 100 feet in in dash eh di no cioè potete fargli un tiro a distanza ma questo si trova già a 100 feet di distanza al termine del round questo era ragazzi era anche per questo che non ho messo nessuna mappina perché è inutile che vi tirassi questi facevano 50 feet in un round ovunque li mettessi nella mappa al primo round vi arrivavano in carica non non c'era da da metterli allora però Stavros tocca a te a questo punto c'è paralizzato questa cosa qua il 2 quindi io mi avvicino attenzione no 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 gli tiro un bel range con vantaggio con vantaggio non può essere una scimmia ah il sasso il sasso o una banana gli tiro un po' gli lancio una banana poteva anche fare il giro e attaccarlo da sinistra preso preso e non è critico non è critico ok ah l'hai già segnato l'hai già segnato non muore Vesharis una cosa ricordati però che a parte che devi morire no è che tu puoi la parola tu lo puoi interrompere perché sei sintonizzato se ridici la parola lo puoi annullare la roba non c'era scritto sul sul core non c'era non c'era allora vi dirò gli oggetti magici sono scritti di merda ah bene ok perché se tu lo guardi non c'è scritto che va via non c'è scritto quanto dura la fumo un minuto dice che dura un minuto il fumo si vabbè ci sta allora ci sta il radio dice che vieni paralizzato per un minuto eh vieni paralizzato per un minuto ma non ti dice quanto dura il fumo lì sopra facciamo che allora facciamo che è un'arma siccome è troppo forte siccome è troppo forte ci sta ci sta che è un fire and forget poi ti crea una zona che è merda per tutti questa cosa qua ok il tuo roll ok quindi io non posso interromperlo ok stavros ha agito telperion puoi interromperlo no non puoi interromperlo non puoi interromperlo ah ok non puoi interromperlo ok ehm preso è critico e muore praticamente allungo dal basso verso l'alto la lancia gli trapassa il collo e parte del cranio la estraggo e faccio un passo indietro quando la neve la nebbia inizia ad avvolgere completamente il suo corpo sì e poi vedi che in realtà quello che vedi è che inizierai a a ritrarti perché la nebbia è impietosa infatti vedo la nebbia che avanza e inizia a fare qualche passo indietro quanto durerà questo effetto guardo il braccio sopracciglio lo impareremo assieme non molto allora mi ciuccio il dito e vedo dove ti era il vento giusto per evitare di stare sotto vento ma giusto per capire ragazzi che cosa vuol dire una roba 30 feet è una roba che alla fine quando la lanci sta roba è grande questo è 35 30 feet è una roba è una roba così è una mappa 30 feet cioè è una roba da blocchi non dico un esercito ma una una legione sì cioè un è più sulle masse adesso però sulle masse cioè come c'è te lo lanci lo abbandoni e vedi che effetti fai poi in base a quello hai paralizzato tutti quanti sì c'è la minchiata di dover abbandonare un oggetto epico sul campo però se ti ferma 100 uomini capisci che mai ne vale il prezzo diciamo dipende da quello che insomma da come lo usi anche o se hai le case matte sui sui keep fai scendere il vapore al piano di sotto eh glielo fai vomitare in realtà così così si poteva fare sai cosa che lo lanci lì in mezzo se avessi magari qualcosa tipo telecinesi e cose del genere poi quando è finito lo tiro fuori eh combinarlo con gust of wind o quelle cose lì è fattibile o mano magica o con gust of wind mamma mia anche mano magica di tenere tenere il corno con la mano magica ok va bene comunque ragazzi faccio aspetta un attimo solo volevo fare un attimo faccio qualche passo indietro sorrido guardo verso il cielo dove è scomparso il drago d'argento fai bene a temerci ma non saranno questi rozzi barbari a fermarci dico bene osservo gli altri ho anche qualche passo indietro osservando la nebbia se questa è è un'armata che ci aspetta che aspetta davanti alla città potrebbe non essere così semplice tuttavia credo che gli archi faranno un buon lavoro su questi sì avete visto però che anche picchiano questi qua ho capito però con le mura e i portoni chiusi si spera che gli archi possano fare qualcosa prima che sì ma andare a sfidargli il capo da soli ecco quello anche forse ma anche no questo era soldato medio però io mi bevo una pozione perché pozione fino a ritorno in forma umana ma perché pozione ma dove raccomando dove siamo insomma perché è perché c'ho comunque parecchi danni ok però è 16 su 39 no ma e non capisco l'emergenza della pozione di solito le pozioni sono emergenze perché dico se la svede dal mattino se appena svedi ci sono arrivati 400 euro addosso il resto della giornata non so il resto della giornata arriverete a Estoria tardo pomeriggio arriveremo dai cioè adesso non so quanti scontri vogliate abbiamo già a Estoria se siamo già a Estoria andiamo andiamo no però se ti vuoi curare curati ma vabbè dai aspetto aspetta ancora era solo per ricordarvi non è che poi le pozioni vengono cacate 4 al giorno di pozioni era solo per quello era va bene a quello di inizio io in casa insomma va bene ok appena si dissipa la nebbia si dissolve sostanzialmente ben vicino e raccolgo il corno una volta che mi sono assicurato di non diventare una statua della foresta sostanzialmente questo sarebbe il colpo per una medusa in realtà no in realtà no per assurdo no perché è una fine piuttosto ingloriosa che tendono a fare molte meduse ah adesso cerchiamo di non essere perché non sono non sono immuni al loro sguardo le meduse è vero quindi banditi gli specchi nel gruppo nessuno si fa nessuno specchio e così via mi raccomando allora la barba alla cieca si fa oppure dite così non mi sento la barba allora ok riprendete il cammino lo capiro se volete fare cose perché torniamo a casa dove volete andare a quando siete a se volete un po' curarvi fare un riposo breve fare ste robe qua ditemelo volete lanciare degli incantesimi le carvi le ferite fare qualcosa me lo dite allora prima di riprendere il viaggio io direi di mangiare qualcosa e di riprendere fiato non so voi d'accordo detto questo ovviamente se il gruppo è d'accordo utilizzo il corno ci sto per assaggiare le predibatezze che ci può offrire se mangiamo dal corno rischiamo di avere le visioni non sappiamo come funziona potrebbe essere che bevendo e mangiando dal corno andiamo in un sogno profondo e dove avremo le visioni e c'è è rimasto un centauro qui attorno d'accordo va bene niente visioni e niente corno riposiamoci 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 è tutto è nient'altro facciamoci per pranzo andremo di carne secca e per cena proveremo il corno allora fatemi un perception in generale per vedere immagino che montiate un po' di guardia mentre io sono il nuovo quindi posso anche non farlo il resto volevo io devo solo recuperare farete un riposo breve quindi se volete tirare gli dice li tirate io ti sicuro perché qua e ti ha picchiato abbastanza minchia un solo dado e hai recuperato tutto due dadi full due dadi scusami minchia anche Stavros bene 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 due dadi e ha recato allora la cosa che notate innanzitutto è che inquietantemente velocemente così come sono arrivate le nubi temporalesche così rapidamente sono sparite è ritornato ad essere un tranquillo pomeriggio tardo primaverile e come se nulla fosse avvenuto riprendete il vostro viaggio ed arrivate alla città ritornate poi a vedere in lontananza la sagoma della città di Estoria o meglio poco la sagoma perché è tutta coperta dentro il canyon ma sapete che lì si trova e arrivate da dove stavate arrivando voi decisamente a meno che non facciate giri voi particolari arrivate dalla porta a sud ditemi dove volete andare ragazzi perché poi io presumo che stiate andando al Tempio del Drago e una cosa che non volevo interrompere la tua descrizione ma io cercavo tre centauri morti se avevano qualche segno di identificazione tipo una piastrina o un un braccialetto niente qualcosa di fammi un perception investigation sarebbe più un investigation questa roba qua eh ti farò un investigation sono più bravo a percepire ma posso comunque investigare no che tiri che faccio nulla qualcosa di tribale ma non sai distinguere meglio a cosa rappresentano se hanno una rappresentanza non ne ha idea di questa cosa qua se allunghiamo andiamo alla porta a nord possiamo passare dal venicoltore se passate dalla porta a nord dovreste fare il giro un po' più lungo e passate dalla dal passate da Corina se volete passare prima da Corina si può fare però è fuori è fuori città dovete fare il giro largo o passate dalla città e poi riuscite oppure fate il giro largo e arrivate da nord est perché facciamo il giro largo passiamo da Corina e poi facciamo le cose in città ok 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 allora arrivate a quello che un po' vi aveva descritto essere Corinna casa sua e vedete che c'è un vigneto solitario ai margini della città ci sono lunghi tralicci di legno che spuntano dal suolo arato disposti in ordinate file simmetriche salubri filari di duva nera crescono attorcigliandosi su quelle strutture fornendo frutti in abbondanza dopo aver camminato per un po' incontrate un robusto uomo di mezza età nella vigna intento a potare le viti con la massima cura quando vi sente avvicinarvi si volta per salutarvi e sembra avere un sorriso raggiante salve benvenuti come può terricle esservi di aiuto è abbastanza raggiante vogliamo assicurarci che corina essere levata a casa sana e salva per i cinque dei siete stati voi mia figlia me l'ha raccontato non ci credevo ma quindi voi siete gli eroi delle terre centrali venite venite corinna corinna vieni sono tornati i tuoi salvatori vedete che si affretta si pulisce le mani lascia lascia a terra le forbici che stava usando per potare le viti e vi scorta a casa qua ritrovate venite accolti da corinna anche che vedete che intanto è stata eccessivamente bendata cioè le hanno curato anche le più piccole ferite si è tolta non ha più dei vestiti diciamo da campagna ma ha dei vestiti da padrone di casa non che non ha più i vestiti addosso ha dei vestiti da figlia del capo e del padrone di casa figlia del padrone di casa si ditemi ditemi raccontatemi meglio cosa è successo perché corinna è stata abbastanza vaga gliel'avevo detto più volte più e più volte di non ascoltare le voci che attirano i giovani in pericolose situazioni mia figlia corinna sempre il senso dell'avventura ti ho raccontato troppe storie di quando della nostra dinastia io guardo guardate con gli altri e dico a bassa una voce abbastanza bassa evitiamo di parlare del rituale non è colpa sua è stata sedotta dalla voce sensuale di quella che possiamo chiamare una semidivinità vorrei che il sangue della nostra famiglia scorresse ancora forte come quando facevamo parte dei signori dei draghi ma evidentemente si hanno scuato troppo chiedo scusa ha detto facevate parte dei signori non io non noi cioè i miei antichi progenitori avete un diario o delle storie tramandate qualcosa ce l'abbiamo sono più storie raccontate dalla tramandate all'interno della famiglia siamo appena tornati comunque da una lunga camminata se potreste se poteste offrirci dell'ospitalità magari dell'acqua fresca del buon vino e magari un racconto ma assolutamente sì venite 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 vi racconto di allora noi in realtà la nostra stirpe deriva un attimo una cosa non siamo il ramo principale se devo essere tutto del tutto onesto siamo un ramo cadetto derivante dalla progenie di estor archelander abbastanza che ci ha dato ancora diritto a questi terreni a parte il fondatore cioè su cui è fondata la città di estoria però adesso ti racconta intanto ti racconta perché vi dice venite venite vi racconto dei tempi della prima guerra dovete si narra che tra tutti i signori dei draghi i fratelli telamoc ed estor archelander erano i più feroci e spietati telamoc il maggiore sognava di diventare un grande re offriva la sua protezione e quella del suo drago a chiunque fosse disposto a giurargli fedeltà prometteva un futuro in cui le cosiddette specie civilizzate avrebbero dominato su tutta tilea e sulle sue creature fatate mortali di tutte le razze si schierarono dietro il suo vessillo lui costruì castelli e città fortificate per proteggere i suoi seguaci dagli attacchi realizzando il primo nucleo di quello che sarebbe diventato il grande regno di maitros sotto il comando di suo fratello minore estor i ranghi del suo esercito crescevano sempre di più per telamoc la guerra era solamente un mezzo un modo per costruire e difendere il futuro della sua gente estore invece non si curava granché del futuro non desiderava governare e comandare e traeva gioia solo dalle battaglie tutti quanti inclusi il suo drago lo consideravano un eroe ardimentoso che cercava la gloria la realtà purtroppo era di gran lunga peggiore in quanto per estor la guerra era l'unico modo che aveva per soddisfare la sua sete di sangue e la sua crudeltà non è a cuor leggero che vi racconto queste storie ma vi devo troppo per il debito che ho nei confronti di mia figlia del favore che avete fatto a salvare mia figlia e per cui non esito a dirvi che per lui le vittorie sul campo di battaglia non significavano nulla tutto ciò che gli importava erano gli omicidi e i massacri delle popolazioni native espandendosi il regno di telamok toccò il territorio dei gigantes sapendo che i giganti monocoli a sei braccia non avrebbero accolto di buon grado gli estranei ordinò a estor di attaccarli con il suo esercito nella mente di telamok suo fratello avrebbe spezzato le forze gigan costringendo i giganti alla resa estor però aveva altri piani in sella al suo drago guidò la carica contro i gigantes i giganti combatterono con coraggio ma non potevano competere con i signori dei draghi e la sua cavalcatura quando si resero conto che la battaglia era persa i gigantes gettarono le armi a terra in segno di resa estor non volle prendere prigionieri e non mise condizioni di fronte agli occhi inorriditi del suo nobile drago ordinò alle alle scusate alle truppe di massacrare uno per uno tutti i guerrieri gigan la minaccia dei gigantes era svanita ma estor non era ancora pago fece avanzare i suoi soldati fino ai paesi dove viveva la popolazione gigan con i loro soldati sconfitti i gigantes rimanenti erano ormai indifesi il drago di estor lo scongiurò di risparmiarli ma lui restò sordo alle sue preghiere il suo esercito trucidò madri e figli vecchi e malati i pochissimi gigantes che riuscirono a fuggire corsero ad avvertire le altre razze fatate delle atrocità commesse da estor questo massacro indiscriminato rivelò chiaramente la vera natura di astor e il suo drago lo abbandonò le conseguenze delle sue azioni andarono molto oltre vedendo il massacro che aveva compiuto l'uteria finalmente comprese che i nuovi arrivati rappresentavano una seria minaccia e sollevò sidon dal suo impegno a non fare loro del male finalmente libero di scatenare la sua furia sidon radunò le creature fatate in un grande esercito e le condusse contro le grazie civilizzate che avevano commesso l'ecidio dei gigantes sidon era intenzionato a rincacciare gli invasori in mare e fu così che iniziò la prima guerra wow ma i miei punti di vista sì sì certamente tuttavia credo che se è come vero che il fardello di cui vi siete fatti carico per Tilea stessa sia giusto che abbiate una prospettiva ampia su quelli che sono gli avvenimenti del passato tuttavia questo non esula dalla mia gratitudine e non sia diretto non si dica che Tericle non sia un uomo grato alle persone ad esso benevole aspettate che vi dice e vedete che va a recuperare una cassa dice come vi dicevo non è mi piace immergermi in queste vecchie storie sono diciamo ormai un un vecchio ciancione la verità è che a parte queste vigneti poco è rimasto nella nostra famiglia degli antichi sfarsi tranne questo e direi che non esito a darlo a voi e apre uno scrigno che effettivamente è ben tenuto e all'interno di esso ve lo do già identificato perché ve lo descriverà lui scusatemi che voglio dare un un giavellotto un giavellotto con le fattezze di una saetta vabbè per veshare su questa arma qui c'è scritto già oh il giavellotto del fulmine beh questo è per te perion invece a parte che è bellissimo mi ricorda qualcosa è vero dorn eh già peccato se per usare bene ma ve lo metto nell'inventario ribadisco vi ho detto che vi vi seppelliscono di oggetti magici non è tra l'altro ripeto non è l'oggetto della madonna specifico per nessuno ma è un signor oggetto magico questo devo vedere un attimo per chi ci se aspettate che magari da casa non vedevano il giavellotto del fulmine fa praticamente questa parte essere un giavellotto magico ma puoi lanciarlo dici la parola si sto pensando che cosa darvi di parola magica ceciolo oh si ce l'ho ce l'ho ce l'ho barvolt è la parola magica ok ok è perfetta per me questa arma allora questa questa cosa qua tu la lanci dici barvolt e si trasforma in un fulmine che va a colpire qualcuno fino a 120 feet di distanza tutti quelli nella linea di tiro devono fare un tiro salvezza 13 di destrezza o si beccano 4 dadi da 6 da fulmine su un tiro o metà se azzeccano il tiro e poi si ritrasforma in giavellotto quando colpisce il tipo quindi il bersaglio il bersaglio se colpito si becca si becca il danno del giavellotto più 4 dadi da 6 da fulmine cojoni questa proprietà può essere usata una volta al giorno questa cosa qua il meret è come se fosse un giavellotto normale invece si tecnicamente è un arma ranged però il giavellotto può essere usato la mia classe dice che poi io aumento la portata il danno di spear e javellin quando sono in corpo a corpo ah ok non me lo ricordo se il javellin può essere usato anche in melee si si c'ha le statistiche melee lui proprio allora non ti dà bonus al tiri per colpire è considerata magica ed è considerata magica come arma questo per me è tantissimo visto le resistenze e poi ragazzi è bellissimo ho un fulmine in mano ok aspetta aspetta lo osservo osservo il il giavellotto guardo un attimo gli altri allungo una mano lo lo afferro è un'arma meravigliosa provo ad allungarlo a dare un paio di affondi bilanciata e resistente questo è un dono degno dei signori dei draghi ti ringrazio per la tua generosità possa tu colpire svelto e sicuro e che sia un buon bersaglio sicuramente ripenso a Demetria quanto vorrei infilarglielo di nuovo nel corpo aspettate che lo cito nella chat però io sono un sono un vecchiaccio di merda perché la formula è slayer slayer balmor fulmine delle tenebre profonde non ve la ricordate bastard è vecchissimo come cartone animato bastard non l'ho mai letto mamma è vecchissimo bastard è vecchissimo mamma mia bastard è vecchissimo però però ce n'era ce n'è uno uno scontro che era fighissimo perché in tempo reale era lo scontro di lui e il chierico che castava la barriera mentre uno castava lo spella d'attacco l'altro castava la barriera e quindi si annullava una vicenda dark schneider assolutamente sì peccato un fumetto che mi è piaciuto peccato che poi quello che l'autore si è impazzito nel senso che ha iniziato a fare tavole tipo le decorazioni delle come si chiamano il doré non so se avete presente quello che faceva le illustrazioni del della divina commedia robe complicatissime cioè background complicatissimi cioè che una tavola gli sarà costate costato 4 litri di sangue delle dita per farla però poi non è più andato avanti sostanzialmente con la storia non è quello che quando dark schneider non è quello che quando venne tagliato a metà si lamentò perché è rimasto dall'altra parte dark schneider era quello che faceva bambino uomo diventava così ed era un po' pornazzo come cosa capiamo di fighe regine oscure dark elf e così del genere ok ok allora se non avete altro con immensa gratitudine si commia si commia faccio l'avvertimento di istruire tua figlia sui pericoli che le che alcune creature celano dietro a un sorriso affabile direi che ho ho avuto una mia grande lezione grazie non so che altro aggiungere a quanto detto da mio padre un'ultima cosa Corina le le persone che erano le persone che mi hanno trovato al al tempio verranno portate qua dal satiro questo potete poi riportare le proprie famiglie sarebbe una buona cosa certo certo ci mancherebbe ci mancherebbe e devo avete bisogno che vi dia una voce devo informare qualcuno a parte ovviamente mi occuperò sicuramente di reindirizzare tutti i giovani di e storia alle loro famiglie ci mancherebbe mi sembra il minimo spiegate loro che gli eroi hanno li hanno salvati e che adesso sono in grado di poter tornare la propria famiglia vi siete segnati il più uno della fama che vi avevo detto a completamento della prima impresa segnatevelo che avete alzato nella scheda nella scheda non c'è da segnarlo non c'è una roba dovete mettervi nelle note o del personaggio nelle adesso no nelle note no fama due andate adesso ok perché uno l'avete fatto col cinghiale esatto e questo è due ecco e questo è due ok ah sì dicevo portare più fama una domanda ci hai raccontato la storia di estor ma in tutto questo salirci perché telanno si trasformò in litchi dice onestamente no credo che sia voluto restare come un qualche tipo di custode dei tempi passati da noi riuscire a individuare cosa custodisce allora ok lo scopriamo quando andiamo a parlarci ok dove volete andare Huffling così ci dobbiamo prima volta era utile andare a chiedere loro magari per trovare il tempio del muschio ma questo l'abbiamo già trovato possiamo anche ad andarci più avanti dagli Huffling ora vogliamo il tempio dell'agua ma ci lo vogliamo bene vogliamo utilizzare il corno prima di andare al museo se poi il custode del museo ha qualcosa in contrario nel farcelo usare infatti piccato vorrei prima avere le visioni e poi vedere eventualmente se dobbiamo lasciare il corno al tempio non so cosa dobbiamo fare la cosa molto semplice andiamo al guardiano e diciamo ecco il corno prima di darvelo lo utilizzeremo punto fine e non sarà e non sarà una domanda possiamo utilizzarla proprio prima di darvelo lo utilizzeremo fa parte della nostra quest quindi è una cosa di superiore ai meri umani elfi d'accordo facciamo così ok quindi inizia a essere sera ecco quando fate sta roba qua perché inizia ok arrivate al tempio e venite accolti da in realtà dagli assistenti ma subito vindi arriva esopo e dice dunque com'è andata buon servo vesciaris io do una una gomitata dandolo sto dicendo dai adesso bene abbiamo abbiamo portato abbiamo portato a termine quel che c'erano prefissate e abbiamo riportato indietro il corno dice i dèi sono ancora dalla nostra parte e sono dalla nostra parte esopo dovrai dovrai darci in concessione l'utilizzo delle corna ma certamente direi che è assolutamente nei vostri diritti questa cosa qua era già pronto a castare blocca barzona io vengo a provare il giavellotto e invece allora è un rituale abbastanza sacro per quanto ci riguarda e se non vi dispiace gradiremmo intonare qualche preghiera a scusate mi sto cercando i nomi delle divinità a Maitros alla dea dell'alba faccio un po' un broncio ma va bene ok vedete che fa un po' di rituali religiosi invoca qualche preghiera alla dea dell'alba dopodiché vi esorta a bere dal corno di la parola di pronuncio la parola arcana e poi bevo per primo e passo il corno ai miei compagni quando arriva a me berrò allora il vino che vi bagna le labbra è è un vino di una qualità che non avete mai assaggiato in realtà ognuno di voi lo percepisce come la migliore nota a lui preferita in questo tipo di bevanda chi più frottato chi più secco chi più amabile tuttavia dopo che avete bevuto dopo qualche istante sentite la vostra testa pesante e prima che possiate rendervene conto sprofondate in una specie di sogno e ognuno di voi ha la stessa identica visione e la visione è che ti ritrovi sul ponte di una bella galea un luminoso mare ceruleo si estende di fronte al tuo sguardo guardi e giù e tra le tue mani vedi uno strano meccanismo di bronzo sembra riflettere le costellazioni del cielo notturno anche se sopra di te il sole splende luminoso i rematori spingono la nave sull'acqua a una velocità che non ritenedi possibile guardi gli uomini sulle panche più in basso essi ricambiano il tuo sguardo con occhi morti e volti scheletrici decine di cadaveri che ti fissano e ti risvegli di soprassalto vi condivido questo mettete velo tra le note mi faccio aggiungere un'immagine a note prendi il drago in alto a sinistra e te lo butti dentro le note ok ok perfetto ok a voi è un attimo che ci sto riflettendo vi ricordo che anche le profezie non erano dirette immagino che tutti abbiamo visto qualcosa e anche voi direi che eravamo tutti sulla stessa nave più o meno anche voi avevate un meccanismo di bronzo nelle mani che non siamo riuscito a capire cosa potesse essere domanda visto che io sono questo mio background so cos'è quel coso di bronzo stanno fammi un tiro di storia qua sopra ok sono tutto ha ho sempre 5 quindi direi che è una norma incredibile no quella lì non ti viene in mente quel meccanismo lì quindi non è un sestante vabbè ok infatti questo per chiedere anch'io ok magari non lo riconosci come sestante di sicuro un sestante che funziona di giorno no ok perché era un sestante che funzionava di giorno probabilmente è un segno scotto la testa probabilmente è il segno del proseguio del nostro cammino e ci diverrà chiaro quando ci avremo a che fare dice esopo arriva perché in realtà dice eravate da soli nella stanza del tempio dice oh vedo che vi siete finalmente svegliati avete avuto ciò che cercavate che ora sono avete dormito tutta notte è ormai l'alba abbiamo qualche indizio in più anche tu Stavro stai dormito cioè la solita roba che queste non sono meditazioni finisci in una è come dormire infatti per te è più strano questa cosa qua perché cioè per te è come essere in una tu lo vedi come essere in una visione perché non hai la coscienza del sogno tu per te sei stato all'interno di una visione io non mi farei troppi ci perderei troppo troppi pensieri su questa visione sono sicuro che gli dèi in qualche modo ci guideranno verso questa questa visione avete sono convinto i nostri incontri avete proveremo scusa vai il pilo che ci porterà poi a assorcare i mari su questa nave abbiamo visto una galea una galea di ottima fattura solo che i rematori erano come morti viventi vedete che si scurisce in volo gli descrivo la nave e provo a pensare se dalle descrizioni della a me viene in mente Argo la nave degli Argonauti però non mi ricordo come si chiamava la nave super figa del Argo la nave era la Argo Argo Argonauti Argo Naudi ma qua nell'avventura c'era ah infatti però aspetta perché non mi ricordo il nome se ti sei segnato le cose non era in base al nome del fiume no dice comunque vedete Esopo che si scurisce in volto rimane un po' dice esiste una sola nave fantasma che mi venga in mente l'Ultros la Ultros eccola lì me lo ricordavo la nave comandata da Estor Arkelander eh sì è un nome che inizia a diventare molto comune nella nostra storia si sa dove è stata vista l'Ultros o dove venga conservata ultimamente no non ne ho la più palida idea tuttavia forse so chi potrebbe aiutarvi forse io azzarderei il fratello io sapevo che era quella nave io azzarderei il fratello erano e no in realtà no in realtà io sarei più dell'idea che andate andiate a chiedere il consiglio della regina Vallus a Maitros e stavo pensando perché poi riflettendoci una nave dovrà pur viaggiare sul mare per cui ovviamente dobbiamo spostarci in qualche grossa città che abbia dei porti per avere qualche informazione in più e Maitros dovrebbe essere la città più grossa che ha un porto e che quindi ha visto delle navi e tra le altre cose il mio suggerimento è che in questi tempi di incertezza forse sarebbe saggio che il corno andasse proprio alla dea della saggezza potrebbe da giocatore la dea della saggezza è Vallus ed è la regina di Maitros ok tuttavia Maitros lei è la consorte perché poi in realtà il re questo è roba saputa lo racconto io perché è Acastus il re ok che se vi giro ah tu l'hai vista sicuro te lo posso no non te lo giro adesso l'immagine di Acastus io so chi mi ricorda Acastus però non voglio spero non sia Cavill perché ultimamente lo vedo ovunque no guarda ve lo giro e poi mi dici perché tu lo sai cioè sai che faccia Acastus vediamo come il mio re se l'uccido divento vabbè mi dà è Gerard Butler eh cioè anche sono solo io che ci vedo quella persona lì sopra no no è Gerard Butler è lui a me sembra il piccolo di The Boys ma l'idea anche anche che figo ho un re fighissimo allora c'era altro nel sogno avevamo in mano un oggetto beh chi remavano erano scheletri quindi mi fa pensare che ci possa centrare anche qualcosa Telamook o comunque un negromante io non so neanche no diceva ah scusate mi ho sbagliato una roba ho sbagliato una roba però dice afroamericanomante giusto il il problema è che non so se sarà direttamente la regina Vallus a poter rispondere alle domande circa l'ultros però Reacastus è l'ultimo discendente diretto di Aestor Archelander sono informazioni preziose queste grazie e dicevate un oggetto un sostante che funziona di giorno vedete che ci pensa un po' dice potrebbe essere l'anticitera è una leggendaria bussola magica che si dice che possa indicare la rotta verso tutte le isole del golfo cerule o del mar dimenticato e perfino del mare degli inferi hai idea di dove possa trovarsi non ne ho la più pallida idea tuttavia se posso essere sincero una bussola senza una nave è comunque inutile io faccio veramente una grassa risata quando dice il mare degli inferi lo sapevo che questo viaggio mi avrebbe portato anche l'inferno in un modo o nell'altro spero per voi di no non si è veramente eroi se non si va all'inferno e non si torna indietro per poterlo raccontare spero sia un viaggio di cui potremmo fare a meno a quanto pare nel nostro destino Vescharis sorrido ma non ti preoccupare ci siamo noi con te in ogni caso del Perion sarà fondamentale avere l'appoggio di tuo padre perché per quello che io ricordo a Maitros tuo padre è venerato ancora adesso come il più grande degli dei assolutamente non degli dei degli eroi ah sì a Maitros sì scusate è appunto per questo che salveremo mia sorella e ai suoi occhi diventerò degno di essere chiamato figlio e avremo l'appoggio dei formidabili centurioni di Maitros no di Reacast no aspettate state confondendo le cose state confondendo le cose il padre di Telperion è a Estoria sì esatto ok però i centurioni a Cass stanno a Maitros i centurioni adorano Pythor come il dio della guerra ok però seguono Reacastus ok cioè sono sono ah beh sicuro allora su questa nota direi che ci aggiorniamo a settimana prossima come vedete non so se lo state notando la campagna pensate di avere abbastanza carne sul fuoco ecco un altro giro sembrano i giri pizza no quando no anzi peggio il giro pizza quando arriva il giro di quella allo zola in cui ci sono gli infami dei tuoi amici di merda scusate gli infami degli amici di merda che nessuno mangia il pezzo della zola all'improvviso a te arrivano tre pizze e mezzo di zola cioè allo zola e ti guardano dobbiamo andare al prossimo giro mangia tu e dico scusami hai ragione hai ragione potevamo andare ci mancava solo che dicessimo con l'ananas veramente di sopra e poi c'era le robe allora ragazzi vi ricordo che avete ancora un po' di giusto per non lasciare le robe troppo in sospeso vi ricordo che avete un po' di fili che avete aperti la sorella di telperion poi telamoc poi le amazzoni poi avete anche la la forgia esatto ed eventualmente adesso ci sarebbe anche da vedere qualcosa di parlare con i sovrani di di maitros re e regina regina ballus rea castus cinque filoni più eventuali robe personali io direi che sarà da affrontare il sacrificio poi capirete perché io dopo come master divento matto su questo su questa rada a prepararla perché ci sono 800 robe in contemporanea che si girano però secondo me è figo secondo me è figo perché poi sta a voi scegliere che cosa volete fare ovviamente ci sono alcune robe più pressanti di altre tipo il sacrificio di tua sorella sorellastra scusami è una data fissa sul calendario scusatemi che abbiamo siamo avanzati di un altro giorno quindi oggi è il primo maggio quindi si va a fare si va a fare un gran festone pieno di comunisti e così via per festa del primo maggio ci si becca il concertone però voglio dire uno due tre fra tre giorni c'è il sacrificio di tua sorella quindi se volete fare qualcosa forse inizia ad avvicinarsi il momento di la prossima cosa che dobbiamo fare è assolutamente andare a parlare con mio padre e il paroliere là sopra che si inventa le cose belle insieme a quello bello devono assolutamente mettere giù lo scambio in maniera tale che non finiamo sì voglio capire cosa allora perché noi ammazziamo i due lucertoloni li ammazziamo prima ma metti caso che gli gira male e ci manda anche qualcos'altro se siamo imprigionati l'è brutta io personalmente lascerei la sorella di Delperion sul diciamo come sacrificio mi ha dato da poter intervenire in qualunque altra situazione chiaramente ovviamente prima dobbiamo far fuori i basilici occhio se interveniamo andiamo a interrompere il rituale perché noi siamo esterni non possiamo farlo dobbiamo essere noi i sacrifici e noi possiamo difenderci non posso lasciare mia sorella lì e poi eventualmente intervenire perché come ci avevano già detto quello sarebbe andare a interrompere il rituale quindi sarebbe tipo fare un'eresia quella è un'offesa è un'offesa diretta quella di interrompere la cosa non è ma comunque ragazzi ma se vediamo di fare qualcosa prima del sacrificio facciamo tutti e due facciamo tutti e due perché altrimenti sta fermi due giorni allora troviamoci qualcosa da fare qua in zona ovviamente in questi due giorni ma comunque iniziamo a pensare a come proporci noi come offerta di scambio era proprio mentalmente per dire siccome tre giorni però gli accordi li dovrete fare probabilmente non il giorno stesso del sacrificio ma prima oggi cioè oggi domani cioè oggi domani dopo domani dovreste avere la roba pronta in teoria già da da fare quindi io direi che la prima cosa che non credo che andiate andrete a fare altre robe di telamoc cose così via perché voglio dire ci sarebbe un giorno da andare da una parte e un giorno da tornare sareste proprio teoricamente si può fare ma con i tempi non stretti ma strettissimi in stile Gandalf arrivate coi tempi cioè non ha senso non ha senso più che altro dobbiamo capire come fare a mettere i tipi che c'è se no vabbè ragazzi chiudo chiudo poi se volete facciamo un po' di meta fra di noi perché così andiamo avanti ragazzi ok e anch'io un po' di roba casino la prossima volta da fare ragazzi volevo dirvi un paio di robe così a parte chi ci sta seguendo poi lo sta riguardando sta guardando qua su twitch di fare i follow e se avete amazon prime perché vi state guardando vox macchina potete abbonarvi al canale gratuitamente usando l'abbonamento di amazon prime seconda cosa se invece ci state guardando da youtube da youtube basta fate i follow premete la campanella campanelle iscrizione intanto l'iscrizione poi se vi va bene la campanella poi se volete fate anche un commentino che così ci aiutate anche a capire volevo dire un paio di robe innanzitutto perché siccome ho praticamente finito monster hunter rise nel senso adesso sto aspettando i miei amici che salgano e poi però ho già finito una build di charge blade una build di inset clave una build di longsword sto facendo finendo di fare quelle per le due al blade e tra un po' finisco le armi cioè me ne sto facendo una per arma in realtà non tutti i set per tutte le armi però ho preso lost ark che tra poco esce che è un tipo diablo ma incazzatissimo non è il mio genere però c'è un po' di gente che conosco che la vuol giocare quindi lo prenderò e ho provato project zomboid e quello è gran figata project zomboid praticamente immaginate un un morpg survival in apocalisse zombie ti giuro io avessi le giornate da 36 ore a qualcosa giocherei eh quello adesso sto dipingendo di nuovo quindi il tempo è sparito eh io non sto dipingendo infatti infatti non sto dipingendo per quello non ce la faccio io c'ho i tau c'ho i tau che mi chiedono ah c'è proprio il flavor of the month ti fai pezzo di merda eh c'è proprio dice eh esce il manualo esce il manualozzo nuovo e via allora io ce li ho in vendita su ebay i miei tau solo che nessuno li vuole perché è effettivamente 6.000 punti di esercito eh quello che avrei anch'io io ce li avrei di tirani di quelle robe lì devi tornare a giocare perché adesso i tirani sono dannatamente forti con la lista mostri eh dovrei vederlo perché in realtà ti dirò mi spiace dirlo la community che ho trovato qua in giro non era friendly diciamola così che verona è un po' tossica un po' tossica tanto infatti avevo trovato poi avevo iniziato io a giocare a infinity quello quello delle miniature sci-fi non so se sei presente sì sì lo conosco perché mi ero trovato da così a così perché era un proprio di community eh di community oltre a essere uno skirmish oltre a essere uno skirmish per cui ti portavi dietro 14 modelli e non 70 che fa anche quello eh che fa anche quello eh solo che poi dove si giocava è una roba che a me ci vuole un'ora secca ad andare ad arrivarci ed è in Milano perché è esattamente la parte opposta di Milano bello vivere nelle grandi città è bello esatto ci vuole un'ora per me a raggiungerlo cioè è come per te a dire è sul lago è come se fosse dire no sul lago ci metto 25 minuti è come dire è a Brescia è a Brescia è come dire è a Brescia e io ci metto un'ora da casa mia un'ora potta potta eh Gnari dom ragazzi ci si becca ci si vede la prossima volta ci si vede lunedì che stiamo battute finali eh di Icewind Dale in realtà stiamo dicendo da un po' di volte però hanno esplorato una buona percentuale ci saranno un po' di novità lunedì ci vediamo invece noi giovedì prossimo qua e magari se volete vedere qualcosa magari streamerò di Project Zomboid perché mi sento di dire che ecco quello si se lo stream e lo registri magari a metterlo su Youtube o quant'altro allora devo dire è uno di quelli che siccome si può giocare in gruppo di amici giocato in gruppo secondo me faccio qualcosa di single player faccio qualcosa di single player perché è un gioco in cui puoi durare una partita 5 minuti come 3 giorni perché non c'è nessuno sconto cioè muori di fame di infezioni ma 3 giorni ma no 3 giorni ti devo dire vabbè salvando salvando andando avanti cioè non è che devi restare online ma non è un morgue no no è che si possono mettere sui server in cui si gioca in comune ok però è un lo puoi giocare in single player questa cosa qua quindi puoi giocarlo insieme alla gente puoi giocare in single gente solo che giocato insieme poi ci sono le regole che puoi mettere per cui puoi giocarlo anche pvp con gli altri survivor è molto carino ed è più un survival game cioè immagina sai quelli che ti simulano le ferite al ginocchio che poi ti rallentano la camminata e così via è molto molto carino la grafica è una merda la grafica è isometrica ma ma i sistemi ma quali sono le differenze da questo Don't Starve Together per esempio che ci sono i zomboni ok che è ambientato negli zomboni però in effettivamente ricorda Don't Starve cioè immagina se tu dovessi fare Don't Starve in Apocalisse Zombie potrebbe ricordarlo invece che mondo fantasy di survival è mondo apocalittico si spari attiri gli zombie da 20 km di distanza quindi è complessissimo come roba è come quei giochini come era hack net hack e vabbè se non l'hai mai giocato era un simulatore di dungeon ragazzi tirato fin troppo a lungo ci si vede l'undi prossimo o forse prima se streamo qualcosa e fino alla prossima ruolate che vi passa ciao ragazzi ciao ciao